Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento Meteo di Antenna 2. Davvero gran caldo in questi giorni, infatti come vedete dalla nostra immagine l'anticiclone di matrice subtropicale, quindi proveniente direttamente dall'Africa, si è congiunto con l'anticiclone delle Azzorre e sta pilotando delle masse d'aria molto calde in direzione proprio delle nostre regioni centrosettentrionali dell'Italia. Inoltre il forte contributo di umidità fa sì che la temperatura percepita dal nostro organismo sia ben oltre la temperatura misurata dai nostri termometri, oltre i 33-34 gradi. Domani avremo quindi una situazione di gran caldo un po' su tutto il nord dell'Italia, però attenzione perché soprattutto in prossimità delle nostre montagne, i nostri rilievi orobici, si formeranno dei temporali che localmente nel pomeriggio assumeranno anche caratteri di moderata intensità. Passiamo all'evoluzione del tempo un po' per la settimana che ci caratterizzerà. Vedete proprio questo anticiclone che invaderà non solo l'Italia ma un po' tutta l'Europa. Vedete addirittura in Danimarca temperature davvero ben oltre i 30-31 gradi e tutto il bacino del Mediterraneo che sarà interessato da queste correnti di matrice subtropicale con temperature prossime ai 34-35 gradi, addirittura 38 gradi sulla Spagna. Attenzione perché l'umidità aumenterà anche nei prossimi giorni e quindi la temperatura percepita dal nostro organismo sarà davvero notevole. Se passiamo all'animazione satellitare di oggi vedremo appunto le perturbazioni costrette ad andare verso nord, ovvero verso la Scandinavia, mentre questa bolla calda di matrice subtropicale quindi proveniente dall'Africa ci interessa un po' su tutte le nostre regioni della penisola italiana. Attenzione perché come vedete alcuni focolai temporaleschi già nel pomeriggio di oggi si sono attivati sulle nostre montagne e hanno scaricato qualche precipitazione, qualche rovescio occasionalmente a sfondo temporalesco fino a questa sera. Poi le nuvole tenderanno a diminuire questa notte, ma come sarà invece il tempo nella giornata di domani? Abbiamo detto che inizierà abbastanza bene, avremo poca nuvolosità sia nella zona dell'Alta Valle Seriana sia nella zona della Medio-Bassa Valle Seriana e Lago di Zeo, ma durante il pomeriggio il sollevamento forzato delle masse d'aria dovute al forte riscaldamento del suolo farà sì che i cumulonembi possano crescere. Questi cumulonembi che nel pomeriggio soprattutto in montagna determineranno dei rovesci, rovesci che localmente potranno essere anche di moderata o forte intensità, seppur di breve durata. Mentre andrà sicuramente meglio nella zona della Medio-Valle Seriana e Lago di Zeo con solo delle nubi sparse. Attenzione perché, ripetiamo, la sensazione di affa sarà davvero notevole a causa dell'elevato tasso di umidità che contribuirà a una temperatura percepita dal nostro organismo, soprattutto a Bergamo e nella zona del Lago di Zeo, oltre i 35-36 gradi. Andrà un pochino meglio in montagna grazie anche alla ventilazione. Passiamo quindi all'evoluzione del tempo per la giornata e per la settimana in Valle Seriana. Abbiamo detto che lunedì avremo una giornata con un cielo in prevalenza poco parzialmente nuvoloso, però nel pomeriggio avremo lo sviluppo di nubi, nubi cumuliformi, che potranno arrecare in serata qualche locale acquazzone e ancora una volta qualche temporale sui nostri rilievi orobici. Fra la notte di lunedì e la giornata di martedì avremo un passaggio di un debole fronte perturbato, questo debole fronte che porterà qualche piovasco e farà sì che le temperature diminuiscano di un paio di gradi. Vedete che a Clusone avremo temperature massime, comprese fra i 28 e 29 gradi, quindi avremo una lieve diminuzione delle temperature. E al mattino abbiamo segnalato ancora qualche piovasco, ma poi il tempo andrà lentamente migliorando nel corso della giornata di martedì e quindi avremo poi mercoledì e giovedì con un cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Attenzione perché di nuovo la colonnina di mercurio è prevista tornare in aumento, con temperature nuovamente a Clusone intorno ai 30-31 gradi. A Bergamo di nuovo 34-35 gradi. Vedete lo zero termico davvero a quote molto elevate, intorno ai 4200 metri di altitudine nella giornata di giovedì. Venerdì invece ritornerà un pochino di instabilità, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio. Nella giornata di venerdì si potranno di nuovo formare dei focolai temporaleschi, che potrebbero poi indicare un possibile peggioramento del tempo a partire dal prossimo weekend, quando qualche fronte proveniente appunto dall'Atlantico determinerà un po' un rimoscolamento delle masse d'aria e forse qualche temporale in più, con una probabile diminuzione delle temperature, che si manterranno elevate un po' per tutta la settimana. Però per il prossimo weekend vi aspetto sempre qui su Antenna 2, sabato prossimo.